Buonasera, siamo alla terza edizione del primo Giulio Perotti, per tre anni a fila, io questo secondo anno che sono qui il primo e questo è il terzo, per tre anni a fila dicevo il tempo un pochino ci ha fatto dannare ma poi in qualche modo ci ha lasciato fare e speriamo che questa sera faccia lo stesso. Questo brano che abbiamo ascoltato, che si adegua perfettamente a questa cornice, è scritto dal maestro Geraldo Tarallo, l'ouverture in B maggiore per Giulio, che è dedicata a Giulio Perotti, facciamo un applauso immediatamente per appena prestato questa serata. Il premio Giulio Perotti, Musica e Poesia, è organizzato dalla Peter Pan Agency, dall'Associazione Amici della Musica e dello spettacolo della sezione Avis della Proloco di Castellarquato, con il patrocinio del Comune. Il tema unico di questa edizione è Sognare Sognando, avremo otto canzoni che saranno poi radunate in un CD e otto poesie che verranno invece pubblicate in un volumetto. Ho appena parlato del tempo e mi sono portato a casa il risultato. Va bene, noi proseguiamo, speriamo di poterlo fare. L'attrice teatrale Cristina Combi leggerà le poesie, mentre ovviamente le canzoni saranno interpretate da ogni cantante e avremo un testimonial che è poi un cabarettista che riconoscerete senz'altro che si chiama Genchi. Segreteria artistica Monica Rossi, organizzazione logistica Franco Ticchi, coordinatrice rapporti enti locali Tiziano Inzani, responsabile sezione poesia Fabrizia Boiardi, direttore artistico e responsabile sezione musica il maestro Gerardo Tarallo, impianti audio Luci e staff tecnico amici della musica di Milano, coordinatore tecnico Massimo Serrantini, regia Luigi Froio. Velocissimo, salutiamo la giuria che è composta da sei elementi, primo a cui fare un applauso senz'altro il figlio del grande Giulio Perotti, Gianluca Perotti. Abbiamo poi Giussi Mosca, manager e talent scout, Umberto Boselli, consigliere del comune di Castellarquato, Tiziana Inzani, proloco Castellarquato, Massimiliano Pancini, musicista, Vittoriano Repetti, musicista. Un applauso cumulativo, sperando, vedo che gli ombrelli si sono già aperti. Allora abbiamo detto otto canzoni e otto poesie, iniziamo subito con un cantante, ovviamente, si chiama Vincenzo Loiacona. Vieni Vincenzo, magari ti porta bene, prendi pure il microfono così ci racconti. È già la tua canzone. Ci racconti da dove vieni? Ecco da Milano. Da Milano. La tua canzone si intitola Lavoro in Corso. Vincenzo è un sogno sognando, diciamo cerco di riabbracciare mia madre e potermi raccontare a lei. Ecco perché quello che non ho detto è che il tema di questa serata, perché ogni anno c'è un tema, è sognare sognando. Vincenzo Loiacona. Grazie. 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 Fermo un passo, via di qua. Fermo un passo, via di qua. Fermo un passo, via di qua. Lavori in corso per raggiungere lei. Fermo un passo, via di qua. Fermo un passo, via di qua. Fermo un passo, via di qua. Per te mamma. Grazie. 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 Grazie.